Dopo l'esplosione di un pacco bomba a Monte Corvino Rovella, che ha provocato il ferimento del 29enne avvocato Giampiero Dell'Ibovi, che praticamente rischia di perdere entrambe le mani a causa della forte riflagrazione, si indaga a tutto campo. A svolgere le indagini i carabinieri e gli ordini del maggiore Eric Fasolino. Nessuna pista esclusa, gli inquirenti parleranno in queste ore anche con la vittima che è ancora sotto osservazione a San Leonardo di Salerno. Il professionista è un avvocato civilista conosciuto ed apprezzato. ed è anche collaboratore del neosindaco Martino Donofrio.